Un paese giusto distribuisce equamente il costo delle prestazioni sociali, come l'asilo nido, la messa scolastica o l'assistenza agli anziani non autosufficienti, soprattutto nei momenti più duri. Ecco perché abbiamo riformato l'ISE, l'indicatore che misura la situazione economica delle famiglie. Oggi l'ISE cambia migliorando i criteri di valutazione del reddito e del patrimonio e aumentando i controlli per garantire maggiore equità. Un bel vantaggio per le famiglie più bisognose. Nuovo ISE, semplicemente più giusto. Grazie a tutti.